La caravella riposa in un luogo sicuro lontano dalla pioggia. Il maltempo facendo gli scongiuri però non dovrebbe rovinare la festa. Cresce l'attesa per le celebrazioni di San Nicola. Dopo le iniziative nei quartieri dei giorni scorsi, il clou è atteso per questo sabato con l'imbarco a Baia San Giorgio del quadro del Santo alle ore 18. Sempre lì si terrà la messa presieduta da padre Giovanni Distante. La partenza del corteo storico è prevista per le 20.30 da piazza Federico II di Svevia, seguendo un percorso che abbraccerà il centro della città con l'arrivo previsto in piazza San Nicola per le 22.30. Telebari seguirà la manifestazione con una lunga diretta, immagini esclusive a partire dalle 19.30. Intanto sul lungomare Nazario Sauro sono già scattati i primi stop alla viabilità veicolare, secondo il programma reso noto da giorni dal comune di Bari e recuperabile sul sito di Telebari. Dalla polizia locale l'auspicio che si possa vivere col giusto ordine e lo spirito della festa. Gli operatori siamo già tutti al servizio da mezzanotte, con le altre forze di polizia naturalmente i presidi sono cominciati da stanotte e questa mattina proseguono per consentire agli operatori commerciali di installare i posteggi sul lungomare Imperatore Augusto. Poi progressivamente tante aree della città saranno chiuse al transito, quindi l'invito è arrivare a piedi verso il centro, non utilizzare l'auto e cercare di vivere con serenità queste giornate.